Su quali fronti si possono avviare possibili scambi e collaborazioni tra la Valle d'Aosta e il Vietnam? Intorno a questa domanda si è sviluppato nel pomeriggio di venerdì 13 settembre l'incontro fra il presidente della regione Augusto Rolandeng e l'ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia Nguyen Hoang Long. Presenti al colloquio per illustrare le peculiarità della Valle d'Aosta anche l'assessore al turismo, sport, commercio e trasporti Aurelio Margheretta, il presidente della Chambro e Valdoten Nicola Rossè e il presidente della nuova università della Valle d'Aosta Bruno Milanesio. Da un anno alla guida dell'ambasciata del Vietnam in Italia Nguyen Hoang Long, 37 anni, laureato in economia all'università Bocconi di Milano e con un dottorato all'università Tor Vergata di Roma è impegnato in una serie di visite ufficiali nelle regioni italiane con l'obiettivo di presentare il paese, creare dei contatti, valutare e attivare possibili collaborazioni. Ad accompagnare la prima visita ufficiale in Valle d'Aosta dell'ambasciatore è stato l'architetto valdostano Nicola Siddi che ha vinto il concorso di architettura per realizzare lo stand espositivo del Vietnam all'Expo 2015 di Milano. Proprio grazie a quest'ultimo evento si prevede che molti vietnamiti arriveranno nel nord Italia. Il paese asiatico vive attualmente un periodo di crescita economica caratterizzato da numerosi scambi commerciali e con una sempre più consistente parte di abitanti interessati ai viaggi e all'Europa. Oltre alle possibili collaborazioni in campo turistico e commerciale l'ambasciatore ha posto l'attenzione sulle opportunità formative che l'Italia può offrire ai giovani vietnamiti. Il Vietnam presenta infatti una popolazione di quasi 90 milioni di residenti dei quali il 60% ha meno di 35 anni. Giovani che amano il Made in Italy e che sempre più scelgono l'Italia come approdo per i propri studi universitari. In questo ambito un elemento di unione con la Valle d'Aosta è rappresentato dal fatto che il Vietnam è un paese francofono e uno dei 77 stati che aderiscono all'Organisation Internationale de la Francofonie, istituzione che opera per la valorizzazione della lingua francese e per la promozione a livello mondiale dei valori della francofonia. La Valle d'Aosta partecipa alle attività dell'OIF quale invitata speciale ai sommet della francofonie.